Quindi ritengo di aver detto che la Tav, questa linea di presunta alta velocità, si tratta di modesta accelerazione tra Lione e Torino da costruire, vada impedita, ostacolata, intracciata e perciò di fatto sabotata. E tutto questo andava fatto con le cesoie e le molotov? Evidentemente no, l'opera di ostruzione, impedimento e ritardo, intraccio di quest'opera dura per più di 20 anni da parte di una comunità della Valle di Susa unanime che conquista sua unanimità e costruzione, impedimento e ostacolo è riuscita a sabotare finora quest'opera. Ho questa idea, diciamo, ho anche pronunciato e scritto, di questa idea per quello che riguarda quel cantiere, che quello non è il palazzo d'inverno che va preso con la forza, espugnato e cancellato, ma che quel cantiere è come la città di Gerico, circondata, assediata da un coro di voci ed è quel coro di voci che fa trollare le mure. Sabotaggio è stato quello che hanno fatto i pescatori dell'Intelusa quando hanno sabotato la legge che gli impediva di recuperare dei nautri a Yanmai, l'hanno fatto lo stesso, hanno sabotato una legge indista. Sabotaggio è applicare male un ordine o una direttiva e quindi guastarla in questo modo. Sabotaggio è un mocchio di significati pacifici e progressisti. Crede che questo processo in qualche modo mette a repentaglio la libertà di espressione? La libertà di espressione è contraria, la libertà di parola contraria. No, quella favorevole, quella ossequiosa è sempre accolta a braccio aperto. Come mai è qua? Perché era un fratello e quindi non potevamo mancare. Cosa pensa di questo impianto? Che non ci sia niente. Lui si prende molto meglio di quello che vorrei fare io. perché sa la portata, il peso, il significato delle parole. Grazie mille, grazie mille, grazie mille.